Musica Ciao, sono Martina e sono una volontaria in Pace Adesso Ciao, sono Chiara e sono volontaria in Pace Adesso Ciao, sono Alessia e sono una volontaria di Pace Adesso Musica Siamo Volontari in Pace Adesso, che è un'organizzazione di volontariato e si occupa anche di progetti di cooperazione internazionale ma nella nostra esperienza abbiamo fatto volontariato qui sul territorio bolognese Durante il servizio civile abbiamo partecipato a diverse attività e servizi nella parrocchia di Santa Rita in via Massarenti in cui c'è il centro di ascolto della nostra OLP che è un centro di ascolto e di orientamento preventivo rivolto soprattutto a stranieri che hanno bisogno di supporto e di informazioni necessarie nella vita quotidiana Grazie al servizio civile in Pace Adesso partecipiamo anche al servizio Miriam che è un servizio rivolto a mamme con bambini tra i 0 e 18 mesi grazie al quale vengono distribuiti pannolini e latte per le mamme che ne hanno bisogno Un'altra delle attività che abbiamo svolto nel nostro servizio civile è stata quella di occuparci degli Empori Solidali Gli Empori Solidali sono una realtà che nasce in collaborazione con il Comune di Bologna e con gli Empori di Casa Zanardi e ci siamo occupate di fornire degli aiuti in termini di beni di prima necessità alle famiglie in condizione di temporanea emergenza economica Fare il servizio civile presso Pace Adesso ha rappresentato un'occasione per collegare il percorso di studi di ambito sociale e politico in una realtà molto forte nel territorio bolognese che è quella del terzo settore Fare il servizio civile in Pace Adesso mi ha dato l'occasione di scoprirmi e di mettermi alla prova Per me fare il servizio civile in Pace Adesso è stata una fonte inesauribile di spunti, novità e riflessioni Grazie a tutti Grazie a tutti